Le farmacie della zona di Fano si attrezzano e mettono in vendita kit di protezione contro la dengue. Sono 102 i casi accertati ad oggi, ma la regione rassicura la popolazione. La situazione è monitorata e sotto controllo. Sono in via di verifica inoltre altri casi che hanno presentato nei giorni scorsi sintomatologia compatibile. Da oggi nelle farmacie comunali cittadine è in distribuzione il kit con 10 larvicidi, uno spray repellente e una pennetta disinfettante al prezzo calmirato di 15 euro. Sono 800 quelli disponibili complessivamente. Domani è previsto un incontro di aggiornamento tra la regione e il ministero, l'istituto superiore di sanità, al quale parteciperanno rappresentanti della regione Marche e del territorio di Fano. Inoltre giovedì tornerà a riunirsi il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, il Gores, un gruppo tecnico formato da esperti di varie discipline che si occupa anche di eventi sanitari epidemici, che aveva già effettuato un primo incontro nei giorni scorsi. Per prevenire la malattia, che è trasmessa unicamente dalle zanzare, sono state messe in atto tutte le misure di sanità pubblica previste. Come da indicazione del Dipartimento di Prevenzione della AST, il Comune di Fano ha effettuato la disinfestazione su tutta l'area urbana di Fano ed è avviato un intervento per eliminare le larve. Inoltre è partita una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione residente su come eliminare le zanzare nei giardini e nelle aree private. Va eliminata l'acqua stagnante dei vasi e delle ciotole degli animali. È anche importante che la popolazione prenda le adeguate precauzioni per difendersi dalle punture. È consigliato indossare maniche e pantaloni lunghi di colore chiaro, utilizzare le zanzariere alle finestre e usare repellenti efficaci. Sono state posizionate nel territorio alcune trappole per zanzare utili per definire la consistenza della popolazione in grado di trasmettere il virus e l'eventuale infettività. Le zanzare catturate verranno esaminate da Laboratorio per le malattie trasmesse da vettori dall'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale Umbre e Marche. Nel sito ARS Marche sono pubblicate tutte le informazioni disponibili. Grazie a tutti.